Quando pensi di farti viva con tua madre? Non ti preoccupare. Non credi che dovresti avvertirla che sei a Roma? Preferisco giocare sulla sorpresa. Lo shock sarà più forte. Beh, per essere una sorpresa, sarà una sorpresa, questo è sicuro. Già. E le dirai perché sei tornata. Non credo. Non subito almeno.